buonasera dopo lo straordinario successo delle fiction maniscalchi e portantini torna la grande fiction siamo lieti di presentare questa sera la prima puntata della fiction ferramenta buonasera buonasera desidera avrei bisogno di 24 stop da 6 e della carta vetrata fine 24 stop sarebbe a dire due dozzine di stop e della carta vetrata fine attenda un attimo ecco a lei quanto fa sono 6 euro e 40 centesimi ecco a lei 20 euro non non ha moneta spicciola eh no mi dispiace non ne ho non ha neanche un euro e 40 alle volte no non ho proprio spiccioli ecco a lei il resto grazie grazie a lei buonasera grazie grazie grazie